Siamo alle porte di Roma, siamo nella camera di Debora Novellino, il volto simbolo di questo inizio 2016 del calcio femminile. Innanzitutto grazie per questa intervista Debora. Grazie a voi, buonasera a tutti. Volto simbolo perché? Perché basta scorrere un po' il mondo del web, la carta stampata, anche le televisioni da oggi, perché insomma andremo in onda su Odeon TV, per capire che in queste settimane si parla tantissimo di te. Questa vittoria che ti ha portato alle prefinali di Miss Italia, però per chi ci segue, noi siamo una televisione sportiva, forse chi ci segue Miss Italia a regolamento lo conosce poco, cosa è successo, dove sei arrivata, cosa hai fatto fondamentalmente? Allora mi sono iscritta al concorso di Miss Italia, il presidente della mia società era a favore di questo, infatti mi hanno accompagnato loro e poi c'era tutta la federazione. Niente, eravamo 54 ragazze al concorso ed eravamo solamente tre calciatrici. E niente, ho passato la prima selezione ed eravamo rimaste solamente in sette ragazze e dovevamo andare avanti solamente a votazioni tramite web. Eh, niente, è andata bene, il 2 gennaio sono uscite le… sì. E se è la prima Miss tra le Miss, perché di fatto almeno per il momento, ad oggi, mentre stiamo registrando questa intervista, nessuna altra ragazza in Italia ha la certezza di partecipare, nessuna ancora a Miss Italia, ma nessuna neanche alle prefinali. Tesara, le prefinali di Jesolo, a questo punto che punti ad arrivare fino in fondo? Sì, sì, speriamo, speriamo va di bene. Senti, un'esperienza importante, no, che forse qualche mese fa, fino a che punto, credevi si potesse realizzare per una ragazza, ad esempio, giovanissima e appena 18 anni? Diciamo che io non ho mai partecipato a concorsi di bellezza, quindi non avrei mai pensato di partecipare, soprattutto a Miss Italia. Quindi per me è stata una grande soddisfazione, ma non solo per Miss Italia, ma anche per tutto il calcio femminile, perché sto rappresentando il calcio femminile in questo momento. In effetti indossi una bella maglia, no, al dirare quella del Bari, poi parleremo anche del Bari, perché domani, rispetto a quando stiamo registrando questa intervista, noi di Professione Calcio daremo la sfida tra Ress Roma e Pink Bari, il presidente già fuori onda ci ha detto, ok Miss Italia, però è importante domani vincere, quindi parleremo anche dell'aspetto tecnico. Però indossi una bella maglia, che è quella del Dipartimento Calcio Femminile e del Movimento Calcio Femminile in generale, in questo momento, perché hai gli occhi puntati addosso di tutti e di tutte, e al tuo nome in questi giorni è legato anche l'intero Movimento Calcio Femminile Italiano. Sì, esattamente, devono capire tutti quanti che comunque il calcio femminile, cioè noi donne non dobbiamo essere reputate solamente dei maschiacci, ma bensì siamo donne e quindi siamo belle tutte a modo nostro. Quindi, niente, spero di rappresentare il calcio femminile in questa esperienza nel migliore dei modi. Venendo all'aspetto tecnico, Professione Terzino, giovanissima, hai debuttato la scorsa stagione in Serie A, proprio contro la Ress Roma, se non ho letto male, quindi corsi e ricorsi. Sì, esattamente. Non inizio bene la stagione, però quest'anno vedremo un po'. Obiettivo salvezza, la Pink Bari non è partita benissimo, però sempre il presidente Signorile ha detto che lei, tutto sommato, la società ci crede in questa salvezza. Voi dal campo come la vedete? No, no, ci crediamo molto. Infatti stiamo aspettando questa partita, la partita di domani, appunto, per vedere un po' come andrà la situazione. Però noi ci crediamo fino in fondo e ce la metteremo tutta. Ti ha iniziato giovanissima, tra l'altro, figlia d'arte, nipote d'arte, insomma il cognome in qualche modo viene subito, balza subito all'occhio. Tuo padre ha giocato anche qualche partita in Serie A con la Fiorentina. Tuo zio è stato un grande giocatore, oltre che un ottimo allenatore, indubbiamente lo è tuttora. Come nasce la passione per il calcio in Deborah Novellino? È nata grazie a mio padre, comunque, perché abbiamo tuttora la scuola calcio. Ho iniziato a quattro anni a giocare nella sua scuola calcio, ho fatto tutto il settore giovanile con i ragazzi. Niente, poi ho giocato per un anno a calcio a cinque e ora mi ritrovo nella Pink da due anni già, a calcio a undici. Senti, prospettive dal punto di vista tecnico. Molte tue colleghe giovanissime come te si proiettano a giocare all'estero, perché dicono, ancora il calcio italiano forse non è così all'altezza. Però in realtà il movimento italiano sta crescendo anche nelle proprie basi, lo dimostrano giocatrici giovanissime come nel tuo caso. Il tuo obiettivo, calcisticamente parlando, una volta che Miss Italia rappresenterà il passato, quale sarà? Il mio obiettivo più grande è quello di arrivare comunque alla nazione maggiore. Spero di arrivarci il primo possibile, perché comunque io amo il calcio e ci sono nata. Quindi speriamo. Prima sono volati anche paragoni importanti, no? Nell'ambito maschile, femminile. Insomma, Novellino mi ricorda qualcuno, Novellino mi ricorda qualcun altro. Personaggi più o meno che hanno lasciato il segno nel calcio, legato anche allo show business. Te a chi ti ispiri? C'è un modello? Anche tra le tue colleghe ovviamente, chi è? A chi mi ispiro? Un uomo molto umile, secondo me, è Zanetti. Anche se non sono interista, però Zanetti, oltre a essere fortissimo, è una bellissima persona dentro, secondo me. E con l'umiltà è andato avanti. Niente. Zio Walter che ha detto quando ha letto questa cosa che... Perché insomma, dalla televisione, qui lo conosce, insomma, lo vedo un personaggio abbastanza vulcanico. Quando ha letto che sua nipote è la prima miss tra le miss, che ti ha detto? Si è stupito, però è contentissimo, è molto orgoglioso di me. Sì, non se lo sarebbe mai aspettato, però è orgoglioso. Senti, siamo in chiusura dell'intervista. A quelle nostre spalle del Fontana di Trevi? Siamo a Roma, perché appunto domani giovi contro la resta e te in mano a una monetina, giusto? Sì, te l'avamo data. Simbolicamente, gettiamo una monetina, di solito, lo sai no? Qua funziona che lanciando una monetina nella Fontana si esprime un desiderio. Qual è il desiderio di Abbo Ranovellino? E dopo avercelo detto, butta una monetina nella Fontana anche te, come fanno milioni di persone ogni anno. Ma non si dovrebbe dire. Hai ragione, però per noi dirlo, dai siamo venuti fino a qua, siamo nella tua stanza. No, domani dobbiamo vincere, punto, basta. Sennò il Presidente non ci fa tornare a casa. Quindi è una minaccia più che un desiderio questa. No, no, dobbiamo vincere, basta. È proprio una sfida per noi stesse. E non ha nessun desiderio legato a Miss Italia? A Miss Italia? Speriamo di andare avanti, speriamo. In chiusura ti lascio con la battuta più inflazionata del mondo, te l'avranno fatta 100 miliardi di persone negli ultimi giorni, ma preferisci i tacchi o i tacchetti? I tacchetti. Perfetto, allora ti continueremo a seguire con i tacchetti, a parte però questa parentese ovviamente tutta sui tacchi. Tacco 15, come si dice in questo caso? Tacco 12. Ringraziamo Deborah Novellino, io ti auguro veramente in bocca al lupo, innanzitutto per domani, ti seguiremo anche sul campo e poi naturalmente per Miss Italia, ma più in generale per la stagione della Pink Bari. Grazie. Benissimo, grazie a voi.